Ok ragazzi, quando siete d'accordo con Marco Travaglio su una cosa e in particolare su questa cosa Tre anni raccontano una vittoria che non c'è e adesso devono salvarsi il culo e la faccia e purtroppo le due cose spesso coincidono Che cosa potrà mai andare storto? Ebbene sì, quando si lavora nell'ambito della politica e dell'informazione la faccia e il culo spesso coincidono E quindi si continua a combattere a oltranza anche quando si difende l'indifendibile La differenza fra me e Travaglio consiste nel fatto che mentre lui si riferisce a determinati politici Io mi riferisco a determinati giornalisti e opinionisti E a proposito di giornalisti e opinionisti, perché mi ritrovo a girare il terzo video sulle bippate di Marco Travaglio in meno di una settimana? La risposta è che Marco Travaglio insieme a SAFE, cioè Società Editrice del Fatto Quotidiano Stanno pubblicando un congruo numero di libri e naturalmente fanno di tutto per pomparli e sponsorizzarli Fra le strategie di marketing a costo zero c'è naturalmente quella di pubblicare i video su YouTube per attirare i lettori Lettori che convincerai a diventare tali sfruttando due o tre strategie La prima strategia è quella di proporre dei contenuti alternativi, ma non nel senso di diversi Ma proprio da un punto di vista diverso, quello di Vladimir Vladimirovich Putin, presidente di tutte le federazioni russe Passate, presenti, future e soprattutto imperative Perché se tu sfuggi al suo impero sei brutto, cattivo e puzzone Ogni giorno che passa l'Ucraina si assottiglia e perde uomini tra morti e mutilati e la Russia avanza Vero, ma anche la Russia perde molti uomini Fra morti e mutilati al momento attuale dovrebbe averne persi 750.000 Mica pizze fichi In secondo luogo è vero, verissimo che la Russia avanza Ma Travaglio sta tralasciando un paio di piccoli e non del tutto irrilevanti dettagli In primo luogo, avanzando a questo ritmo, l'esercito russo arriverà a Kiev non prima di 50 anni Perdendo nel frattempo altri 24 milioni di uomini E in secondo luogo i russi avanzano principalmente in campi e rovine Al momento attuale non sono ancora riusciti a prendere nulla che abbia un valore operativo strategico In parole povere non hanno ancora preso nulla che possa accelerare la loro avanzata Oppure accelerare la distruzione, il disfacimento, il decadimento dell'esercito ucraino Lo fa Trump di mettere d'accordo le due parti togliendo i finanziamenti e costringendo Zelensky a trattare Travaglio è rimasto ancora alla campagna elettorale di Trump E no Marco, non funziona più così Il togliamo i finanziamenti agli ucraini valeva in periodo elettorale Adesso Trump lascia delle dichiarazioni leggermente diverse Del tipo forse riduciamo i finanziamenti agli ucraini È passato cioè dal dire a Zelensky non diamo un centesimo A forse gli riduciamo gli aiuti Forse E manca ancora un mese al suo insediamento Da qui ad allora magari il generale Kellogg's Che non è esattamente filo russo Lo convincerà ad ampliargli quei finanziamenti Perché se fosse stato per Zelensky la guerra non sarebbe manco scoppiata Fosse stato per Putin la guerra non sarebbe manco scoppiata Ma certo se fosse stato per Putin la guerra non sarebbe mai scoppiata D'altronde si è soltanto conquistato la Cecenia, la Georgia e la Crimea negli anni precedenti Il fatto è che lui si è ritrovato lì così sul confine all'improvviso 300.000 soldati, migliaia e migliaia di mezzi E ci ha provato Putin a bloccarla la guerra Ma quelli sono partiti, hanno travisato il gesto che ha fatto Putin ha fatto il gesto di fermatevi I generali hanno capito Andate avanti fino a prendere Kiev in tre giorni E da qui è scoppiato tutto il bippino Ci sta Travaglio Ci sta Putin la guerra non la voleva E naturalmente non l'aveva neanche prevista Negli anni precedenti infatti ha fatto cassetto Mettendo da parte 600 miliardi di dollari Che gli sarebbero serviti per fronteggiare un paio di anni di sanzioni Nella sua testa decisamente meno blande di quelle che gli sono capitate poi fra capo e collo Ma lui la guerra non la voleva e non l'aveva prevista Questo almeno secondo Marco Travaglio Zelensky, ricattato e minacciato dai nazisti e dagli ultranazionalisti ucraini Non ha mai potuto attuare gli accordi di Minsk Ah, stiamo parlando dei famosissimi nazisti filoucraini Che sostengono un presidente ebreo Ed esattamente questi tipi poco raccomandabili Ora sono qui con noi in questa stanza? Ce l'hanno un nome e un cognome? Perché sinceramente, battute a parte A me risulta che nel governo ucraino non ci siano esponenti di estrema destra E dubito seriamente che ne esistano anche all'opposizione Del resto Marco Travaglio che apparentemente, sempre preciso, non ha mai fatto un solo nome e cognome Di questi presunti esponenti di estrema destra che controllano il governo di Zelensky E pressato dagli americani non ha mai potuto dire una volta per tutte Noi non entreremo nella Nato Travaglio qui sta sostenendo che praticamente la Nato è per Zelensky un pochino come le nostre cene aziendali o di partito Tu non ci vorresti andare ma l'azienda o il partito ti ci costringono No, no, io non ci vengo, non ci vengo, non c'ho voglia Devo andare dal dentista E dall'altra parte ti dicono No, tu ci vieni, ti trascinano C'è Biden che gli ha dato una botta in testa per portarsi Zelensky alla Nato Insomma, la scena che sta descrivendo Travaglio è questa qui La realtà ovviamente non può essere più diversa di così Per un motivo semplicissimo La federazione russa di Vladimir Vladimirovich Putin Grande signore delle tutte le russie passate, presenti, future e imperative Nel corso degli ultimi vent'anni ha portato avanti almeno tre guerre Una ovviamente in Cecenia E Kadirov è un trofeo di guerra, tutti gli effetti La seconda in Georgia Si è portata a casa appunto in Labgazia e l'Ossetia del nord o del sud Le confondo sempre una vale l'altra Tanto sempre repubbliche fantoccio sono E infine naturalmente nel 14 si è portato a casa Sottraendolo proprio all'Ucraina, la Crimea e occupando parte del Donbass Quindi è chiaro che gli ucraini vorrebbero fare parte della Nato Perché Putin ogni due o tre anni Forse quattro anni quando gli va di sfiga Attacca qualcun altro E naturalmente, visto che Putin è molte cose Ma un minimo di conti di safare Attacca sempre una nazione che non è difesa Che non fa parte di un'alleanza Che non ha un articolo 5 che dice Guarda che se mi metti un piede del tuo stivale sul mio territorio L'intera Nato reagisce e ti trasforma la capitale in un parcheggio Che sarebbero state le due cose che avrebbero messo il suo popolo al sicuro E avrebbero risparmiato tanti lutti e tante devastazioni Ehm, Travaglio, guarda che il popolo di Zelensky è minacciato da Putin Ed è da Putin che deve essere messo al sicuro Bisognerà, penso, prima o poi trascinare davanti alla Corte Penale Internazionale E questi criminali che crimine avrebbero compiuto esattamente? Che hanno costretto e illuso gli ucraini a combattere E appunto nella convinzione folle di poter battere sul campo l'esercito russo Se pensi di poter battere Vladimir Vladimirovich Putin sei un criminale di guerra E la cosa divertente è che il reato di cui sta parlando Marco Travaglio Esiste realmente in Russia e si chiama disfattismo militare Se tu metti in dubbio il fatto che l'esercito russo sia invincibile Ti becchi dagli 8 ai 15 anni di reclusione Non mi risulta invece che la Corte Penale Internazionale Nonostante abbia abbassato recentemente di molto i suoi standard Riconosca questo reato come tale e soprattutto come crimine di guerra E condannando a morte centinaia di migliaia di persone Praticamente un'intera generazione Quindi il responsabile di tutto ciò non è Vladimir Putin Che ha invaso la nazione confinante Sono le persone che permettono agli ucraini di difendersi Per non essere sottomessi Detto tra parentesi perché Travaglio non ne parla mai Apparentemente per lui non c'è alcuna differenza Tra stare sotto lo stivale di Vladimir Putin Oppure in una democrazia di tipo occidentale Per Travaglio è uguale Secondo lui probabilmente la vita sotto Vladimir Putin È esattamente identica a quella che potresti fare attualmente in Italia Negli Stati Uniti o in Giappone La realtà tuttavia non potrebbe essere più diversa di così Nella Russia di Vladimir Putin non ha i diritti veri e propri Ci sono moltissimi abusi C'è corruzione, c'è vessazione Anche da parte di pubblici ufficiali E tutto questo resta impunito Se tu protesti anche semplicemente portando un cartello bianco Vieni arrestato e condannato In Occidente questo non succede E anche volendo far finta che non ti interessi assolutamente nulla della politica Che poi si traduce in cosucce tipo A quanto ammonterà la tua pensione Oppure se hai o meno il diritto di curarti Anche volendo far finta che non ti interessi nulla di tutto questo In Russia si arricchiscono in pochi e si impoveriscono in tanti In quante case mancano ancora i bagni? Molte Se non abiti in grandi città come Mosca e San Pietroburgo È probabile che tu non abbia infrastruttura a disposizione Mentre viceversa nell'Unione Europea e nell'Occidente Brutto cattivo e pulsone Quanto meno tutti quanti abbiamo il bagno Tutti quanti abbiamo un minimo di welfare E poi si sta anche benino Nei paesi baltici per esempio Attualmente si sta probabilmente meglio che in Italia Le delegazioni ucraina e russa si sono viste Prima in Bielorussia e poi in Turchia Per un mese e mezzo Si fanno così All'inizio si mette la pistola a ciascuno sul tavolo E bisogna vedere chi c'è la più grossa la pistola Sì e normalmente chi ha la pistola più grossa deve compensare altre carenze E le posizioni di bozza in bozza si avvicinarono fino ad arrivare a una bozza sola Il comunicato di Istanbul Ora visto il contenuto della bozza che stiamo per analizzare O meglio che Travaglio non sta per analizzare ma noi sì Io personalmente dubito fortemente che la parte ucraina fosse d'accordo al 100% con quella roba lì Ma anche dando per scontato e ammesso e non concesso Che effettivamente le due parti arrivarono a una bozza singola Quella bozza resta priva di valore a meno che non sia sottoscritta e ratificata Deve essere ovviamente sottoscritta normalmente dai presidenti o dai capi di stato delle nazioni coinvolte E poi naturalmente deve essere ratificata dai parlamenti Senza la ratifica la bozza è semplicemente un pezzo di carta In cui i russi e i ucraini dicevano le stesse cose Non ci credo neanche se la vedo e ti giuro mi piacerebbe vederla La Ucraina resterà neutrale Non entrerà nella NATO Sarà parzialmente demilitarizzata Per intenderci i russi chiedevano che l'esercito di Kiev passasse da 285.000 uomini a 80.000 E chiedevano altresì una notevole riduzione dei mezzi militari ucraini Gli ucraini volevano avere a disposizione 800 carri armati Che sono il minimo indispensabile per fronteggiare un'invasione Mentre i russi erano disposti a concederne 342 Sì 342 Non ho mai capito perché 342 e non 340 o 345 Però i russi volevano concedere questo Chiaramente un'Ucraina demilitarizzata in questo modo È alla mercè della prima federazione russa che passa 85.000 militari in tutto Non possono difendere una nazione Quando viene attaccato con la prima ondata da 300.000 unità È pura follia accettare un accordo del genere Con un vicino bellicoso che non ha rispettato nessuno degli accordi precedenti Tenete conto che l'esercito è diventato enorme Armatissimo con tutte le armi e soldi che gli abbiamo mandato In realtà no, perché stiamo parlando del 2022 La guerra era iniziata da due o tre mesi In due o tre mesi avevamo a malapena iniziato a mandare qualcosa agli ucraini Gli ucraini avevano ricevuto i nostri Stinger, gli Enloe e altri Mampad principalmente Non avevano ancora i Leopard, non avevano gli Abrams C'erano un mucchio di cose che a quell'epoca non avevano E visto in retrospettiva è stato un vero e proprio miracolo Che siano riusciti a tenere testa i russi a respingere O meglio, dire che è stato un miracolo è ingiusto È stato il coraggio degli ucraini a respingere l'esercito russo Questo sì Negli ultimi anni avrà una garanzia, un ombrello di sicurezza garantito dai paesi Che poi sarebbero stati decisi Wow! Una garanzia, un ombrello dei paesi che poi sarebbero stati decisi Guarda, una clausola così te la firmo subito a occhi chiusi Se sono il tuo rappresentante, per me no, grazie Sinceramente io non so come qualcuno che sente queste frasi Possa credere davvero a queste cose qui E non mi spiego neanche come Travaglio possa dirle queste cose qui Quindi la garanzia di sicurezza per l'Ucraina dipenderebbe O avrebbe dovuto dipendere da una serie di nazioni terze che danno garanzie Ora, sinceramente, a quel tavolo queste nazioni c'erano? No! Non sappiamo neanche quali sono Tant'è che Travaglio dice sarebbero state decise poi Quindi tu al tavolo decidi per esempio che l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti Nel caso in cui la Russia attacca l'Ucraina Scendono in campo e vengono a difenderti con i loro uomini Travaglio, mi ricordi cortesemente chi mi può è Putin per decidere cosa deve fare la mia nazione? Inoltre, volendo tacere sul fatto che le nazioni occidentali non hanno mandato i loro eserciti per difendere l'Ucraina allora E certamente non lo farebbero adesso Il meccanismo pensato dai russi era di tipo collegiale In teoria, l'Ucraina, la sicurezza dell'Ucraina avrebbe dovuto essere garantita da una serie di nazioni Le quali collegialmente all'unanimità avrebbero dovuto decidere di intervenire a sua difesa Il trucco è semplicissimo Ti basta mettere nel mucchio una pecora nera Che so, immaginate che cosa potrebbe accadere se le garanzie per l'Ucraina dovessero essere date da Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Italia E ve lo immaginate voi l'onorevole ministro Tajani di turno che dice Ok, scendiamo in guerra e andiamo a prendere a calci nel Bipuri russi? Io no, non abbiamo neanche riconosciuto agli ucraini il diritto di difendersi colpendo le basi aeree russe In territorio russo da cui partono gli attacchi Figuriamoci se noi decidiamo di mandare i nostri uomini lì a combattere Potrà entrare nell'Unione Europea? La Russia si ritira? Veramente no, non c'era scritto da nessuna parte che la Russia si sarebbe ritirata Quanto al destino della Crimea e del Donbass è affidato a un ulteriore incontro bilaterale tra Zelensky e Putin Quindi sostanzialmente più che un accordo hai un banale cessato il fuoco L'improvviso quando ormai l'accordo è a portata lo raccontano i negoziatori ucraini che dicono abbiamo brindato a champagne Infatti anche se Travaglio probabilmente non l'ha notato e gli è sfuggito questo piccolo dettaglio La guerra si è verificata proprio perché un certo Vladimir Putin ha invaso il Donbass e ha annesso la Crimea Quindi dire ne discutiamo dopo significa in realtà non affrontare il problema per cui è sorta e permane la guerra Quando ci siamo resi conto che Putin si accontentava del nostro no all'ingresso nella Nato Ma Travaglio ci hai detto un secondo fa che la questione Crimea e Donbass sarebbe stata gestita in un secondo tempo Quindi no, Putin non si accontentava del non ingresso della Nato dell'Ucraina Che detto fra di noi non poteva comunque avvenire così come non può avvenire ora Perché l'Ucraina è in guerra con la Russia e nessuno entra nella Nato mentre ha una guerra in corso Perché naturalmente nel momento in cui lo facesse avrebbe diritto alla garanzia di difesa dell'articolo 5 E quindi l'intera Nato si troverebbe in guerra Una notte all'improvviso il 9 aprile del 2022 arrivò Boris Johnson per dire di persona Sì Boris Johnson è arrivato una notte all'improvviso e ha tirato anche le coperte di Zelensky Dicendogli a modi fantasma dei Natali passati che Bippo stai facendo tu quella roba lì non la firmi Noi Nato non accetteremo un negoziato combattente che sconfiggiamo la Russia Arrivò il veto dei veri padroni della Nato Questa è la leggenda metropolitana che viene raccontata da Vladimir Putin e da Lavrov Quando ha delle serate pagate in India La realtà è che quell'accordo non venne né firmato né tantomeno ratificato perché faceva bippare Tutta al più era un banale cessato il fuoco che avrebbe permesso ai russi di ricaricare le armi Ma soprattutto ripeto a quale titolo tu russo ed eventualmente anche tu ucraino Decidi che io italiano, europeo, americano dobbiamo intervenire direttamente per prendere ammazzati i russi La prossima volta che fra tre o quattro anni decidono di invaderti o decidi di invadere l'altra nazione Ma stiamo scherzando? E sinceramente è anche divertente la parte sulla Nato Perché ovviamente noi europei e americani non abbiamo un bippo da fare E quindi vogliamo distruggere la Russia perché sì Intendo dire negli anni 90 la aiutiamo a riprendersi economicamente Acquistiamo il suo gas, il suo petrolio Ma vogliamo a tutti i costi distruggerla perché sì Resisti a Trump e poi chi te le dà i soldi e le armi? L'Europa che non ha più nemmeno gli occhi per piangere Credo che Marco Travaglio abbia preso un po' troppo sul serio Quella pubblicità della Gazprom in cui noi europei eravamo ridotti alla fame Ed eravamo costretti a mangiarci i criceti Non ha più un governo che stia in piedi salvo fare dei colpi di Stato fatti in vario modo Colpi di Stato in Europa sono abbastanza confuso Avrete notato che in tutta Europa la gente è disposta a votare persino per i nazisti Sì perché tra le altre cose c'è gente come te che sdogana il bippismo Facendolo apparire normale o addirittura progressista Hai delle persone che non rispettano i diritti umani Invadano altre nazioni e tu presenti la cosa come se fosse normale Come è avvenuto in Austria e in alcune Irlanda della Germania Pur di non mandare più armi e non impoverire i popoli La Germania ha effettivamente dei problemi economici Ma questi derivano da fattori che sono completamente alieni alla guerra All'Ucraina abbiamo mandato i fondi di magazzino Abbiamo mandato equipaggiamenti ed armi che stavano lì ad arrugginire Non è quello che rovina la tua economia La tua economia viene rovinata da una miopia assoluta in tema energetico I tedeschi, tanto per dirne una, hanno mandato in dismissione le loro centrali nucleari E oggi si ritrovano ad acquistare il 40% dell'energia dall'estero Quindi ovviamente la devono acquistare a prezzi molto più alti Hanno voluto fare a tutti i costi la transizione ecologica anzitempo Creando una marea di problemi nel settore manifatturiero Che poi è anche quello energivoro E infine l'economia è l'economia Non puoi portarti a casa milionate di immigrati Senza garantire loro un lavoro e tutto il resto Ma questo è un altro discorso Chiaramente, dato che il popolo dedica circa 60-90 secondi Quando ti va di fortuna una notizia Cade preda di persone che dicono la colpa è della guerra E propongono soluzioni semplici a problemi molto complessi La soluzione più semplice è quella di schierarsi dalla parte dell'uomo forte di turno Che sistemerà tutto con una bacchetta magica Non è Putin che fa votare così È che la gente vuole politiche sociali e non vuole politiche di guerra Però è Putin che fornisce delle informazioni false e fuorvianti Traendo in inganno quella gente su cosa sono le politiche di guerra E cosa sono le politiche sociali Poi certo che i russi interferiscono Ci mancherebbe altro Tutti interferiscono in tutte le elezioni I russi, gli americani Che non lo sappiamo? Certo, ma c'è modo e modo di interferire Un conto è andare a dire a qualcuno Guarda, questa politica non funziona E' molto meglio se segui questa strategia Mostrando dati veri Facendo un ragionamento logico Altro è inventarsi una marea di bippate E diffonderle a mezzo di account falsi In un caso stai facendo politica, il primo caso Nel secondo stai traendo in inganno un intero popolo E non stai facendo politica Stai facendo propaganda di pessimo livello E stai manipolando l'opinione pubblica in modo improprio e illegale Perché stai ingannando quelle persone Ma non sono in grado di cambiare milioni di voti L'ultimo rapporto del Censes dice che l'80% degli italiani è diventato contro la Nato Ma io dico, ma una domanda ve la volete fare? Certo, noi non ci poniamo solo una domanda Ma diamo anche una risposta E questa risposta è disinformazione In alcuni casi, come quello di Lilin Verosimilmente ci sono i russi che pagano l'attività di disinformazione In altri l'attività di disinformazione si ripaga da sola Vendi copie di un giornale Fai le serate a teatro Vieni pagato per le comparsate in televisione E naturalmente poi vendi tanti, tanti, tantissimi libri a tema E voi che cosa ne pensate di queste comparsate di travaglio? Come sempre, fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto Se poi siete affezionati al canale Ricordatevi di supportarlo Iscrivetevi, attivate la campanella Condividete il link con gli amici che sono interessati a questo genere di video E naturalmente lasciate un mi piace grande e grosso Per voi sono solo pochi click Ma per il canale significano molto Inoltre, se davvero vi appassionate a questi argomenti Valutate l'idea di abbonarvi oppure ancora di diventare dei Patreon Ci sarà qualche contenuto extra di tanto in tanto Principalmente tutti i video che finiscono in revisione Perché ci sono parole che non piacciono tanto all'algoritmo E poi faremo delle riunioni comunque redazionali E concorderemo parte dei contenuti E se non farete tutto questo Vedrete ancora più video reaction a Marco Travaglio Io vi ho avvisati Poi fate voi Come sempre, grazie di tutto per tutto E a presto!